Questa campanella adesso, madonna la prova dell'equazione, forza sotto i banchi, no, no l'atto, sotto ci sta benissimo Come cos'è la campanella lunga, la prova dell'equazione, no, cos'è l'arrivo della slitta di mamma natale Suve forza, apri filetti di fila, chi è che sono? Apri filetti di fila, due ruoni, non è una comida di Shakespeare in 20, eh? Dimmi cara, forza, c'è, si è tipuso di bruciato, no, quello lì non l'hai bruciato, è Gian Maria che si è acceso un fumogeno Io non lo so sempre mentre ci sono le verifiche, ste prove, miseria, dai Professoressa, buongiorno, vedi che deve evacuare la classe, forza, evacuiamo Sì, però un momento, eh, non è che posso buttarmi giù dalla finestra Ma che freddo in cortile, gliel'ho sempre detto, se si devono fare le prove di vacuzione si fanno a maggio Signori, è una fila indiana, eh, non è una sfilata di armani, dai Adesso dov'è sto punto di ritrovo, si capisce niente come è fatto il cortile, aiutami un po' Professoressa, no, devo venire a questo punto di ritrovo, non è quello, attraverso il cortile, passi dal fiume Eh sì, il fiume va un po' perché, ma cosa fai qua? Ma tu se chiudi fila vuol dire che chiudi la fila, no?